ho detto finora, di fare un passo in avanti e magari di illustrarvi alcune delle cose che facciamo. Noi siamo un'azienda che sviluppa piattaforme con intelligenza artificiale, quindi conosciamo i processi immobiliari e cerchiamo di risolvere dei problemi pratici. Ma lasciatemi prima iniziare ricordando un'esperienza di quando ho iniziato il lavoro. Potete proiettare le mie slide per favore? Ah, benissimo. Quando ho iniziato il lavoro nel 2000 ricordo che si scriveva sul curriculum sotto la voce informatica conoscenza dei principali sistemi applicativi Microsoft. Tutti quanti sapevano che bisognava sapere Excel, PowerPoint per avere un buon lavoro, quindi si smanettava con la tesi di laurea, con un po' di training per poter iniziare il lavoro con qualche competenza. e nel mio caso il mio primo lavoro è stato a JP Morgan a Londra dove vivo attualmente, dove si fa largo uso di questi sistemi applicativi a quel tempo e quindi quando inizio il lavoro mi rendo conto ovviamente che non ne sapevo poi tanto, ma i miei colleghi del tempo mi spiegavano che qualche anno prima, quando non c'erano ancora questi sistemi applicativi, i modelli finanziari si facevano a mano. Si facevano scrivendo delle proiezioni, dei calcoli per esempio sul concambio dei prezzi azionari, sugli investimenti, sui ritorni su operazioni di private equity, immobiliare e con la calcolatrice si computavano i valori. Ovviamente quando erano sbagliati bisognava rifare tutto da capo. Quando il cliente cambiava le ipotesi su cui si facevano queste analisi si rifaceva tutto. È una cosa che sembra assurda al momento, ma in effetti era così. Quindi potete immaginare l'impatto profondissimo, estremo che ebbero gli applicativi Microsoft sul modo di lavorare di quel tempo, perché con Excel si potevano cambiare alcune celle e veniva fuori il risultato immediatamente di tutta l'analisi finanziaria. Si potevano fare analisi di sensitività, cioè era un modo completamente diverso di lavorare. Ebbene, la mia opinione è che con l'intelligenza artificiale il modo di lavorare dei prossimi anni sarà impattato così profondamente quanto in quel tempo il modo di lavorare fu cambiato dagli applicativi. Quindi sul curriculum scriveremo non soltanto gli sviluppatori software, ma chiunque gestisca processi operativi nel real estate, conoscenza dell'intelligenza artificiale per la gestione di processi e analisi finanziarie operative. Quindi sarà un impatto profondissimo il sapere come il nostro lavoro può essere migliorato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Quindi in questo senso l'intelligenza artificiale è un terzo stadio di sviluppo digitale in un'organizzazione media, non di ricerca o particolarmente avanzata, ma di quelle che gestiamo tutti quanti. Quindi partendo dagli applicativi, passando per delle piattaforme digitali in cloud che gestiscono dei processi, poi potenziati dall'intelligenza artificiale. Quando spiego questo concetto a dei clienti e a degli amici, a questo punto mi chiedono, sì mi piacerebbe poter applicare alcuni di questi processi, ma mi chiedono cosa posso fare. E quindi io procedo a spiegare alcuni esempi che probabilmente voi potreste relazionare con il vostro lavoro di tutti i giorni. anni. Questo è un esempio pratico, quindi generative AI di cui abbiamo parlato durante le giornate di oggi. Quindi supponiamo che abbiamo allenato, abbiamo programmato la nostra applicazione per generare la descrizione di un immobile con delle istruzioni più precise possibili. Per esempio cerchiamo una descrizione di un immobile tra 40 e 50 parole con un linguaggio forbito, elegante, ricercato, con finalità commerciale. Quindi deve usare un linguaggio che serve a illustrare gli elementi di attrattività di un immobile, per esempio posizione e cose del genere. E questo modale serve all'operatore per inserire dei dati sull'immobile, che sono alcuni banali, tipo il numero dei vani, dei bagni e altri sono informazioni che noi pensiamo in una descrizione di un immobile possano essere considerati attraenti, per esempio l'esposizione, le rifiniture dell'immobile, la prossimità al centro città, la vista, qualsiasi cosa. Possiamo inserire le informazioni se vogliamo o lasciarle in bianco. Schiacciando il bottone la generative AI ci produrrà una descrizione che risponde alle nostre istruzioni con i dati che abbiamo inserito. E' una cosa semplice, in qualsiasi lingua, in qualsiasi modo la vogliamo. Quindi questa è un'applicazione molto banale, ma possiamo fare un passo in avanti. Possiamo arrivare a creare una scheda immobiliare dove ci sarà la descrizione, dove ci sarà degli spazi che noi abbiamo predefinito, l'indirizzo, la prossimità al centro, alcune fotografie, per esempio ordinando quella esterna in alto, poi quella degli interni, poi il bagno, poi il garage o qualsiasi cosa io voglia. E creare questa scheda sarà un gioco di un attimo. Servirà soltanto rileggerla, vedere se va bene, magari fare delle piccole correzioni e sarà pronta per l'uso. Quindi con un vantaggio di tempo di diverse ore. Se poi pensate che io potrei dover fare queste schede per cento immobili, per esempio perché sto preparando la data room di un'operazione o perché sto facendo una collezione di tutti gli immobili per mandarle al mio dirigente. A questo punto il vantaggio di tempo diventa di ore. Tutte le schede dovranno essere rilette e controllate, ma comunque ho a disposizione un draft già veloce, pronto e subito che si può controllare. Un altro caso che noi utilizziamo correntemente è quello che ricade nel automated document processing. Quindi si tratta di estrarre dati, informazioni da dei documenti. Quindi ho fatto un esempio. Supponiamo che nel mio gestionale avrò documenti vari di un immobile, planimetrie, documenti catastali, contratti, fotografie. Quello che è perché magari avrò ricevuto queste informazioni dai miei collaboratori in tutta Italia, che avranno un accesso alla mia piattaforma e caricheranno delle perizie, delle informazioni. Quindi io ho già organizzato in modo che tutti debbano entrare e caricarmi i dati. Quindi io li aspetto. Dopodiché devo preparare un'analisi finanziaria. Ho bisogno di raccogliere delle informazioni e metterle nel posto giusto. Il prezzo di acquisto di un immobile, i costi, per esempio le bollette, i costi delle fees organizzati nel modo giusto, i multipli che i miei periti mi suggeriscono di utilizzare. Raccoglierò tutte queste informazioni che andranno nel posto giusto e avrò la mia analisi finanziaria pronta per la mia review. Quindi in questo caso ho estratto delle informazioni, dei dati, su documenti che hanno il formato più vario, che sono fatte da diverse persone, dove non c'è sempre nel posto giusto il dato che sto cercando. Quindi avrò bisogno di un software, quello dell'AI, che riesce a comprendere il senso del testo rispetto alla mia domanda e a trovare il dato che io sto cercando. E quindi risparmierò il tempo dei miei collaboratori più giovani di andare a cercare questi dati e popolarli dentro un certo template. Un altro caso che usiamo frequentemente è quello che noi chiamiamo workflow automation. Quindi nella gestione dei processi immobiliari la maggior parte delle aziende utilizza delle email, cioè assegna delle attività ad un collaboratore interno, un collega o esterno, un partner esterno che si occupa di valutazioni, di analisi legali, a un broker e quindi gli dà un mandato, un lavoro. Per favore, martedì vai su questo immobile, questo è l'indirizzo e fai questa attività. Dopodiché lo chiama, hai visto la mia email? Sei d'accordo su questo? Invece l'attività di workflow consente di creare una serie di attività concatenate, ognuna assegnata al professionista rilevante, schiacciare un bottone, distribuire queste attività e aspettare che ognuno faccia il proprio lavoro. Ognuno riceverà le istruzioni per il proprio lavoro, entrerà nella piattaforma, accederà agli immobili e potrà poi caricare i risultati delle perizie del proprio lavoro. Ovviamente un workflow immobiliare non è necessariamente sempre lineare, cioè in relazione a come vengono fuori le attività sottostanti, le perizie, bisognerà procedere in un modo o invece in un altro. Se per esempio da una perizia verrà fuori che c'è un problema strutturale di un immobile, andrà fatta un'ulteriore perizia. O se in un processo di compravendita verrà fuori che occorre verificare un titolo, occorrerà creare un'altra attività. E con l'intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni caricate e della capacità di leggere e scannerizzare il testo, l'intelligenza artificiale sarà in grado di assegnare un task o piuttosto che l'altro perché comprenderà che quel certo problema è stato verificato, è stato ritrovato, oppure quell'attività necessita di maggiori approfondimenti, semplicemente dal testo che il perito ha scritto e che io ho ricevuto in piattaforma caricato dallo stesso perito. Quindi in questo modo sono in grado di avanzare il workflow in maniera automatica e se gestisco migliaia di immobili, soprattutto residenziali, dove quindi l'attività di gestione è meno strategica, ma più ripetitiva, controllata, e che va svolta in maniera controllata, uniforme per tutto il portafoglio, sarò in grado di portare avanti il workflow di migliaia di immobili e monitorare quello che sta succedendo e intervenire a sistemare quello che potrebbe non essere andato a buon fine. Quindi vi ho dato tre esempi per spiegare come in effetti si parla di intelligenza artificiale e come di questioni estremamente complesse e scientifiche, tipo appunto si legge sui giornali di questi elementi, ma in realtà si può cominciare a costruire awareness, quindi conoscenza all'interno della propria organizzazione da alcuni task semplici. E questo consente a mio parere anche di socializzare il concetto di intelligenza artificiale con i propri colleghi, perché come è stato detto in precedenza c'è timore con riferimento all'adozione e ai rischi di intelligenza artificiale. Sono rischi e timori che io condivido, di cui ho sentito varie volte questa giornata di riferimenti. Io devo dire anche il mio punto di vista, io sono un appassionato di tecnologia, io faccio per lavoro il precettore, cioè io spiego di questo tutti i giorni, dopo aver iniziato la carriera in finanza. E quindi quando parlo con le persone di tecnologia, il mio più grande successo è quello di vedere come dei processi vetusti, rischiosi e poco efficienti, migliorino in termini di controlli, di efficienza, di trasparenza, a vantaggio delle organizzazioni e dei loro clienti. E con l'intelligenza artificiale riusciamo a fare queste attività in maniera eccellente. Quindi quello che rimane è, e mi appello a chi di voi ha un ruolo manageriale all'interno delle vostre organizzazioni e comunicare ai vostri collaboratori un lato dell'intelligenza artificiale che in realtà è raggiungibile da subito, su cui si può lavorare per poi arrivare a uno stadio successivo. e spiegar loro che così come un tempo si scriveva conoscenza informatica dei sistemi applicativi, al momento anche loro possono conoscere come nella gestione delle loro attività giorno per giorno possono magari pensare ad una raccomandazione di come migliorare alcune delle loro attività. Qualche tempo fa ero ad una presentazione a scuola di mia figlia che va al liceo a Londra e cercavo di pensare ad un'analogia molto semplice per poter descrivere a quelle persone che non sanno nulla di intelligenza artificiale cosa possa essere. L'analogia che ho pensato è si tratta di un suggeritore, un suggeritore che estende le nostre capacità cognitive in maniera molto rapida, che riesce a processare dei dati, che riesce a offrirci una scelta, ma che applica un modello di conoscenza lineare che non è necessariamente quello che noi vorremmo applicare ogni volta. A volte ci piace scegliere quello che scegliamo sempre sulla base della consuetudine, altre volte di usare l'intuito, la creatività. Quindi non lasceremo mai al nostro suggeritore scegliere al posto nostro, ma riteniamo comunque tra di noi la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per suggerirci delle opportunità. Quindi questa è la nostra esperienza di tutti i giorni, abbiamo visto miglioramenti nei processi dei nostri clienti e per questo continuiamo a spiegare di queste attività e vediamo dei grossi riscontri nel lavoro di tutti i giorni e per questo ci dà positività e incoraggiamento ad andare avanti e studiando i modelli sempre più evoluti, ma allo stesso tempo studiando i processi dei clienti che non vogliono l'ultima versione di intelligenza artificiale sviluppata dai laboratori di ricerca, ma vogliono migliorare il lavoro che fanno conoscendolo bene e traendone vantaggi in termini di controllo, efficienza e di qualità del lavoro. Ringrazio dell'attenzione. 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 Grazie a tutti.